L'incredibile annuncio del papà di Denise, un nuovo capitolo inizia. Prima di iniziare, iscrivetevi al nostro canale e attivate le notifiche tramite la campanellina per essere sempre aggiornati sulle prossime notizie e scoop del mondo dello spettacolo. Benvenuti su Amica Gossip, il canale che vi porta le ultime notizie e pettegolezzi più interessanti dal mondo dello spettacolo. Oggi parleremo di una storia davvero toccante che ha catturato l'attenzione di molti di voi, quella del coraggioso Pietro Pulizzi. Noto come il papà di Denise Pipitone, la bambina scomparsa nel 2004 a Mazzara del Vallo. Dopo essere stato un autista di autobus, Pietro ha preso una decisione straordinaria. Ha pubblicato un annuncio sulla sua pagina Instagram alla ricerca di un nuovo lavoro che sia adatto a lui e che gli permetta di garantire un futuro per sé e per la sua famiglia, nonché di continuare la sua incrollabile ricerca per scoprire la verità sulla scomparsa di Denise. E qui arriva la notizia che ci ha colpito il cuore. Autoline e Toscane, una compagnia che gestisce il trasporto pubblico in Toscana, ha risposto all'appello di Pietro, offrendogli la possibilità di candidarsi come autista attraverso il loro portale dedicato alle assunzioni. Una chance che potrebbe cambiare il corso delle indagini e offrire una speranza per il futuro a lui e alla sua famiglia. Incrociamo le dita e speriamo che tutto vada per il meglio. Il caso di Denise Pipitone ha sempre suscitato grande interesse e dibattito riguardo all'identità del vero padre. Pietro Pulizzi, il padre naturale di Denise, ha avuto una storia d'amore con Piera Maggio, la madre della bambina. Prima di questa relazione, Pietro era sposato con Anna Corona, donna coinvolta in modo marginale nelle indagini sulla scomparsa di Denise. Tony Pipitone, l'ex marito di Piera Maggio e padre legale di Denise, ha scoperto la verità sulla paternità solo al momento della scomparsa della bambina. Tuttavia, nonostante questa rivelazione, Tony ha continuato ad amare e prendersi cura di Denise come se fosse sua figlia, segnando profondamente la sua vita. Oggi ci auguriamo con tutto il cuore che Denise venga ritrovata presto così da mettere finalmente la parola, fine, a questa brutta storia. Ora, carissimi amici di Amica Gossip, cosa pensate di questa offerta di lavoro da parte di Autoline e Toscane a Pietro Pulizzi? Fateci sapere la vostra risposta nei commenti qui sotto. Vogliamo conoscere la vostra opinione su questo importante passo nella vita di Pietro e sulla sua lotta per la verità su Denise. Vi ringraziamo per il vostro continuo supporto e partecipazione. Vi aspettiamo numerosi per le prossime entusiasmanti notizie e aggiornamenti dal mondo dello spettacolo. Alla prossima!